Revocati i domiciliari al consigliere comunale sospeso Ugo Rossi, ma non potrà stare a Trieste. Lo ha stabilito questa mattina durante la prima udienza del processo il giudice Nicoli, che ha revocato gli arresti domiciliari a Rossi, ma ha anche prescritto il divieto di accesso e di dimora nei comuni di tutta la provincia di Trieste, salvo espressa autorizzazione del giudice. Dunque, fino all'8 maggio 2023, Ugo Rossi non potrà farsi vedere nel capoluogo Giuliano. In tribunale durante l'udienza è anche prevenuta una lettera firmata dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che chiedeva un rinvio dell'udienza per permettere al comune di costituirsi parte civile. Il giudice però non ha ravvisato gli elementi per un rinvio. L'assessore comunale Nicol Matteoni invece si è costituita parte civile. Rossi era finito i domiciliari dopo vari episodi in cui rifiutava di esibire il Green Pass per l'accesso ad alcuni luoghi, ma pretendendo di entrare lo stesso. L'ultimo blitz che ha visto protagonista il Novax era stato il 4 febbraio scorso al ricreatorio Toti, quando gli agenti della polizia locale erano dovuti intervenire per calmare Rossi, che stava cercando di entrare nel ricreatorio senza il certificato verde. Gli uomini della locale erano stati costretti a bloccare fisicamente l'esponente del movimento 3V dopo i ripetuti atti di disobbedienza. Proprio con l'assessore Matteoni, Rossi aveva avuto un diverbio, finendo poi per spingerla per riuscire a entrare senza esibire il Green Pass. Ancora prima, nel settembre scorso, Ugo Rossi si era reso protagonista dei disordini davanti all'ufficio postale di Viale Sanzio. L'intervento e la resistenza ai carabinieri gli erano costati una condanna penale, per la quale il 31enne ha fatto appello.